Vendita, assistenza e riparazioni di motocicli e biciclette Manca abbigliamento moto e caschi Cavallini Moto è il negozio giusto per tutti gli amanti delle due ruote A Voghera, in piazza Garibaldi 12 Buonasera a tutti gli amici di Occhio Pavese 635esima fiera dell'ascensione Alvia Ovviamente noi ci siamo e quindi siamo pronti per andare a scoprire Come sta andando questa inaugurazione E siamo con l'assessore alla cultura Marina Zaretti, buonasera Buonasera a tutti i vostri telespettatori Insomma, in tre parole che sensia sarà questa? Una sensia meravigliosa, veramente è partita alla grande Abbiamo veramente avuto una grande soddisfazione con il pubblico che ha assistito all'inaugurazione Che ho ideato per la mia città ed è stata veramente bellissima Raccontiamola per chi non c'era, che inaugurazione è stata? Beh, prima di tutto danzata con delle coreografie Con un inno d'Italia lirico Poi una coreografia danzata bi-italien Con alle spalle il video del teatro sociale Quindi una storia che vuole portarci verso questa inaugurazione Poi abbiamo avuto Piero Milanesi che ha cantato questa meravigliosa canzone Storica, Boghera E questa canzone poi ho fatto rappare da Andrea Verdi Ed è venuto un mix meraviglioso A seguire poi altri spettacoli veramente passionali e belli Che hanno veramente coinvolto il pubblico Uno spettacolo nuovo e veramente di grinta e di entusiasmo, coinvolgente Le polemiche del caso, costi eccessivi, mancanza di parcheggi, cosa risponde? Ah, guarda, io se qualcuno vuole entrare nel mio cortile Gli posso far parcheggiare nel mio cortile Abbiamo messo a disposizione, a parte gli scherzi Il campo che è qui a Tigua, l'area Fermi Per cui c'è un grande campo a disposizione che è stato sistemato ad hoc Dovrebbe essere aperto anche il parcheggio dell'autoporto I parcheggi sono liberi venerdì in tutta la città E domenica anche, gratuiti Più di così non possiamo fare Credo che ci sarà veramente tanto divertimento E che la città abbia diritto di godersela senza tante polemiche Grazie Grazie a voi e mi raccomando partecipate alla Sensia 2017